Amici di Youtube ben trovati da Marco Ligori in questo video con immenso dispiacere segnaliamo un gravissimo lutto per il mondo del cinema e soprattutto per il mondo delle serie tv ci lascia un vero e proprio veterano del cinema americano, un grandissimo attore conosciuto in tutto il mondo e prima di saperne di più vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 mi piace ne pubblicherò immediatamente uno nuovo non dimenticate di attivare la campanella per ricevere le ultime notifiche il 5 maggio 2022 ci ha lasciato Michael Agherty 68 anni attore di tantissimi film lo ricordiamo in Danko, Speed 2 e l'ispettore Gadget ma Michael Agherty è stato soprattutto un vero e proprio idolo delle serie tv ha partecipato a tantissime serie tv lo ricordano i tanti colleghi ricordando un grande uomo e un grande professionista Michael Agherty ha perso la vita il 5 maggio al momento non si conoscono le cause della morte ma Michael Agherty ha davvero scritto la storia delle serie tv americane ne ricordiamo soltanto alcune in realtà sono davvero tantissime diciamo che Michael Agherty ha partecipato a casa Kito, Friends, Ellie McBeal, Yar e la signora in giallo Michael Agherty è morto a Los Angeles amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale quando vedete questo video ciao a tutti grazie a tutti